Liberiamoci dalla violenza, è lo slogan della giornata di sensibilizzazione contro il femminicidio, tenutasi ieri pomeriggio all'Istituto Giacomo Leopardi di Torre del Greco. Stiamo riflettendo sul femminicidio, questo fenomeno terribile che purtroppo ancora segna la storia, la cronaca italiana. L'abbiamo fatto con esperti di un certo rilievo, psichiatri, psicologi, assessori comunali, dottoresse, insegnanti, nonché con una piccola performance dei nostri alunni della secondaria, sempre ispirati alla non violenza e soprattutto all'acquisizione della consapevolezza del rispetto dell'altro. Perché la violenza contro le donne e il femminicidio nasce dalla cultura del non rispetto. E noi come scuola vogliamo attraverso questi eventi, questi incontri, abituarci a comprendere come è importante, in senso proprio lato, rivalutare i rapporti umani, le relazioni sane, l'affettività, l'empatia, l'ascolto dell'altro, il rispetto della vita e della dignità della persona. Noi come scuola ci poniamo come obiettivo quello di formare coscienze critiche, di educare le nuove generazioni a quell'umanità, a quella consapevolezza dell'importanza dell'altro, che quando mancano sono sempre fonte di dissidio, conflitto, distruzione. Esperti a confronto nella sala teatro della scuola, con l'intento di educare e formare le nuove generazioni alla cultura del rispetto e alla consapevolezza dell'importanza dell'altro. La forza delle parole è di gran lunga superiore a quello che possa essere un gesto di violenza, un gesto aggressivo. Bisogna tenere presente che la diversità non è una difficoltà della possibilità della convivenza, ma anzi è un arricchimento sociale molto importante, perché è proprio nella diversità che l'altro esprime il suo pensiero e quindi mi arricchisce con quello che sono i miei concetti, i miei pensieri. Avere una migliore conoscenza del rispetto di se stesso e quindi degli altri. Chi non si rispetta difficilmente rispetta gli altri. Da un punto di vista medico noi possiamo agire soltanto a livello preventivo, cercando di formare le nuove generazioni, se o quanto sia importante tutelare la propria salute, anche in virtù del fatto che il diritto alla salute è un diritto riconosciuto a livello internazionale e quindi va tutelato e difeso. In quanto delegata alle pari opportunità ho cercato di mettere in atto un progetto insieme alla Sticca, la Presidente Giuliana Esposito, insieme anche all'Associazione Lella Fuoco, dove siamo andati ad operare all'interno di ogni scuola, capire là dove bisogna destrutturare quelli che sono i vecchi stereotipi e ricominciare da capo per strutturare dei nuovi stereotipi per i ragazzi e capire effettivamente che siamo diversi ma che abbiamo uno stesso peso.